C'è tempo fino al 18 aprile per iscriversi alla seconda edizione di Addolciamoci Insieme, la gara di pasticceria amatoriale organizzata dal comitato di quartiere Ostia Antica Saline. Verranno premiate le prime quattro composizioni. L'evento si terrà il 22 aprile presso il ristorante Albainiero in via Felice e Caronni. Per informazioni e iscrizioni si può chiamare il numero 347 8319535.